Il potere invisibile della visualizzazione. Scopri come raggiungere i risultati che credevi impossibili. Di Genevieve Berend, 1921. Traduzione a cura di David De Angelis. Tutti i diritti di traduzione sono riservati. Narrato da Vita Wolf. Prefazione Queste pagine sono state scritte con lo scopo di fornire una chiave per il raggiungimento dei vostri desideri e per spiegare che la paura dovrebbe essere completamente eliminata dalla vostra coscienza per poter ottenere il possesso delle cose che desiderate. Ciò presuppone, naturalmente, che il vostro desiderio di possesso si basi sulle vostre aspirazioni per raggiungere una maggior felicità. Ad esempio, sentite che il possesso di più denaro, terreno o amici vi renderà più felici e che il vostro desiderio di possesso di queste cose nasce dalla convinzione che possederle vi renderà liberi e appagati. Nel vostro sforzo per possedere, scoprirete che la cosa di cui avete più bisogno è di essere costantemente il meglio di voi stessi. Una mattina, dopo una lezione, un uomo si avvicinò a me per chiedermi se potevo dire qualcosa riguardo all'abbondanza, essendo indisperato bisogno di denaro. Mi offrì una banconota da 5 dollari, commentando «Gentile signora, questa è la metà di ogni dollaro che io possiedo in tutto il mondo. Ho debiti. Mia moglie e mio figlio non hanno abiti adeguati. Per questo devo trovare dei soldi». Gli spiegai che il denaro era il simbolo della sostanza differenziata, che questa sostanza riempiva tutto lo spazio, che era presente per lui in quello stesso istante e che si sarebbe manifestata a lui in forma di denaro come richiesto. «Ma», disse dubbioso, «potrebbe arrivare troppo tardi». Gli dissi che non poteva arrivare troppo tardi, perché era eternamente presente. Aveva capito e si sentì sollevato dalle mie parole. Non rividi più quell'uomo. Ma sei mesi dopo ricevetti una sua lettera dove c'era scritto che si trovava a New Orleans. Diceva, «Ho una professione stabile e ben avviata. Lavoro come fotografo. Ho una casa di mia proprietà e possiedo un'automobile. E posso dire che complessivamente mi sto arricchendo». «E' gentile signora Berend. Voglio ringraziarla per avermi sollevato dagli abissi più profondi quel giorno a New York». Tre giorni dopo aver parlato con lei, ho incontrato per strada un uomo che non vedevo da anni. Quando gli spiegai la mia situazione, mi prestò il denaro necessario per pagare le bollette e trasferirmi qui. L'assegno allegato serve per aiutarla a continuare il suo meraviglioso lavoro, quello di insegnare alle persone a come aprirsi mentalmente e ricevere l'infinita abbondanza. Non l'avrei mai compreso da solo, senza il suo aiuto. Che Dio la benedica. Avere la sensazione che possedere numerosi beni, non importa di che tipo siano, portino di per sé appagamento e felicità, è un malinteso. Nessuna persona, luogo o oggetto può darvi la felicità. Potrebbero darvi un motivo di essere felici e una sensazione di appagamento, ma la gioia di vivere proviene da dentro. Pertanto, è consigliabile impegnarsi per ottenere le cose che riteniamo possano donarci la felicità, a condizione che i propri desideri siano in accordo con la gioia di vivere. In questo volume si desidera anche suggerire quali sono le possibilità in serbo per tutti coloro che si impegneranno a comprendere l'arte della visualizzazione e per chi metterà in pratica questa conoscenza su qualunque piano si trovi. La parola impegno, come è usata qui, non intende trasmettere un'idea di sforzo. Lo studio e la meditazione dovrebbero essere privi di sforzo o tensione. Ho cercato di farvi capire che, partendo dall'inizio dell'azione creatrice o immagine mentale, seguiranno sicuramente alcuni risultati corrispondenti. Sebbene le leggi dell'universo non possono essere modificate, possono lavorare in condizioni specifiche, producendo così risultati per un avanzamento individuale che non potrebbe essere raggiunto con l'opera spontanea della legge fornita dalla natura. Nonostante i suggerimenti che vi ho dato finora, sulle possibilità in servo per voi grazie alla visualizzazione, in grado di condurvi oltre le vostre esperienze passate, essi non infrangono in nessun modo la continuità della legge di causa ed effetto. Se, nonostante i suggerimenti guidati, qualcuno si renderà conto che la sua mente è un centro attraverso e in cui tutto il potere si trova, sta semplicemente aspettando di essere orientato nella sola e unica direzione attraverso cui sarà in grado di intraprendere misure specifiche e questo significa reazione in forma concreta o fisica. In questo caso, la missione a cui questo libro è dedicata sarà stata realizzata. Cercate di ricordare che l'immagine che avete in mente, che sentite e vedete, è riflessa nella mente universale e secondo la legge naturale di azione reciproca, essa dovrà ritornare a voi in forma spirituale o fisica. La conoscenza di questa legge di azione reciproca tra individuo e la mente universale aprirà davanti a voi un libero accesso a tutto ciò che desiderate possedere o essere. Dovete fermamente tenere presente che tutto ciò può essere vero solo per l'individuo che saprà riconoscere che il suo potere per creare un'immagine mentale persistente deriva dallo spirito originario universale della vita, e può essere usato in modo costruttivo solo fino a quando verrà impiegato e conservato in armonia con la natura dello spirito che lo ha creato. Per assicurare questo, non ci deve essere alcuna inversione di pensiero da parte dell'individuo per quanto riguarda il suo rapporto con questo spirito originario dell'universo, che è quello di un figlio o di una figlia attraverso cui la mente genitore agisce e reagisce. Così condizionati, qualunque cosa si crede e si sente di essere, lo spirito creativo della vita è destinato a riprodursi fedelmente in una reazione corrispondente. Questa è la grande ragione per immaginare se stessi e i propri affari come si desidera che essi siano, come fatti esistenti, anche se invisibili all'occhio fisico e vivi nella propria immagine. Uno sforzo onesto per fare ciò, sempre riconoscendo che la propria mente è una proiezione dello spirito originario, vi mostrerà che il meglio che c'è è vostro in tutti i modi. Genevieve Berend, settembre 1921 Informazioni sull'autrice Genevieve Berend è stata l'unica allieva personale di Thomas Troward, il grande esperto della scienza della mente. Il tuo potere invisibile è una guida potente, ma semplice e facile. Questo libro può insegnarvi come usare il potere della visualizzazione e altri processi insegnati da Thomas Troward per trasformare la vostra vita. Berend dice Tutti noi possediamo più potere e maggiori possibilità di quanto immaginiamo, e la visualizzazione è uno dei più grandi di questi poteri. Essa ci fa notare altre possibilità. Quando ci fermiamo un momento per pensare, ci rendiamo conto che il cosmo per esistere deve essere il risultato di una mente cosmica. Dal 1912 al 1914 la vita di Genevieve Berend si concentrò esclusivamente sulla saggezza e sulla filosofia di Thomas Troward, 1847-1916, le cui coinvolgenti e influenti idee fornirono gran parte del lavoro preliminare alla filosofia spirituale oggi nota come nuovo pensiero. Mentre la consapevolezza della scienza della mente stava prendendo forma, Troward impartì la sua visione personale a una sola allieva, che avrebbe saputo perpetuare questa conoscenza e condividerla con il mondo. Il tuo potere invisibile rimane il lavoro più potente e popolare di Berend. Terminati gli studi con Troward, Berend iniziò la sua missione a New York City, dove fondò e diresse The School of Builders, la scuola dei costruttori, fino al 1925. In seguito fondò un'altra scuola a Los Angeles per poi visitare altre grandi città in tutto il Nord America nei successivi 35 anni come celebre oratrice, insegnante e professionista nella scienza della mente. L'esercizio della facoltà di visualizzare mantiene la vostra mente in ordine e attrae le cose che vi servono per rendere la vita più piacevole in modo ordinato. Se vi allenate in modo pratico a immaginare volutamente il vostro desiderio e lo esaminate attentamente, scoprirete presto che il vostro pensiero e i vostri desideri arrivano e procedono in una sequenza più ordinata, come non mai. Avendo raggiunto uno stato di ordine mentale, non sarete più in un costante stato di fretta mentale. La fretta è paura e di conseguenza distruttiva. In altre parole, quando la vostra comprensione afferra il potere di visualizzare il desiderio del vostro cuore e di trattenerlo a seconda della vostra volontà, attirerà a voi tutte le cose necessarie per la realizzazione di quell'immagine con le armoniose vibrazioni della legge di attrazione. Vi renderete conto che siccome l'ordine è la prima legge del cielo e che la visualizzazione colloca le cose nel loro elemento naturale, visualizzare deve essere una cosa celestiale. Tutti visualizzano, che lo sappiano oppure no. Visualizzare è il grande segreto del successo. L'uso cosciente di questo grande potere attira risorse notevolmente moltiplicate, intensifica la vostra saggezza e vi consente di sfruttare i vantaggi che in precedenza non siete riusciti a riconoscere. Ora voliamo in aria. Non perché qualcuno sia riuscito a modificare le leggi della natura, ma perché l'inventore della macchina volante ha imparato ad applicare le leggi della natura e, usandole in modo ordinato, ha prodotto i risultati desiderati. Per quanto riguarda le forze naturali, nulla è cambiato dall'inizio. Non esistevano aeroplani dell'anno 1, perché le persone di quella generazione non erano in grado di concepire l'idea come una possibilità pratica che potesse funzionare. Non è ancora stato fatto, era la discussione, e non può essere fatto. Eppure, le leggi e i materiali per pratiche macchine volanti esistevano allora come adesso. Troward ci dice che la lezione più importante che ha imparato dagli aeroplani e dalla telegrafia senza fili è il trionfo del principio sul precedente e l'attuazione di un'idea alla sua logica conclusione a dispetto delle testimonianze accumulate di tutte le esperienze passate. Con un tal esempio, com'è possibile non rendersi conto che segreti ancora più grandi possono essere rivelati? Inoltre, che voi possedete la chiave dentro di voi con cui aprire la stanza segreta che contiene il desiderio del vostro cuore? Tutto ciò che è necessario per poter usare questa chiave e rendere la vostra vita esattamente come la desiderate è un'indagine accurata delle cause invisibili che stanno alla base di ogni condizione esterna e visibile. Poi, portate queste cause invisibili in armonia con la vostra concezione e scoprirete che sarete in grado di trasformare le possibilità in concrete realtà anche se al momento presente sembrano solo sogni fantastici. Sappiamo tutti che il pallone aerostatico è stato all'antenato dell'aeroplano. Nel 1766, Harry Cavendish, un nobile inglese, dimostrò che il gas idrogeno era sette volte più leggero dell'aria atmosferica. Da quella scoperta nacque il pallone aerostatico e da quell'ordinario pallone aerostatico si è evoluto il dirigibile. Gli studi dell'aeronautica e le leggi della locomozione aerea degli uccelli e dei missili hanno portato alla convinzione che il meccanismo poteva evolversi in macchine più pesanti dell'aria, costruite per viaggiare da un luogo all'altro e rimanere in aria mantenendo una grande velocità, superando con forza propulsiva alla legge ordinaria della gravitazione. Il professor Langley di Washington, il quale sviluppò gran parte di questa teoria, in seguito migliorata da altri, fu messo in ridicolo ed eriso quando fece volare un modello di aeroplano solo per vederlo affondare nelle acque fangose di Potomac. Ma i fratelli Wright, che eseguirono degli esperimenti alla fine del XIX secolo, elaborarono la possibilità di viaggiare in aria con una macchina che non aveva un sacco pieno di gas. Riuscivano a immaginare questo metodo di trasporto con grande facilità. Si dice che uno dei fratelli disse all'altro, quando i loro vari esperimenti non andavano come previsto, non ti preoccupare, fratello, mi vedo già in quella macchina che viaggia senza fatica e stabilmente. I due fratelli Wright sapevano ciò che volevano e mantennero la loro immagine costantemente nella loro mente. Quando visualizzate o create un'immagine mentale, non vi state sforzando a modificare le leggi della natura, le state realizzando. Lo scopo di visualizzare è mettere le cose in un ordine regolare, sia mentalmente che fisicamente. Quando vi renderete conto che questo metodo di impiegare il potere creativo realizza i vostri desideri uno dopo l'altro, nella realizzazione pratica e materiale, la vostra fiducia nella misteriosa ma infallibile legge di attrazione che al suo punto centrale di potere nel cuore della vostra parola immagine diventa suprema. Niente potrà turbarla. Non sentirete mai la necessità di portare via qualcosa a qualcun altro. Avrete compreso che chiedere e cercare hanno come loro correlativi ricevere e trovare. Capirete che l'unica cosa che dovete fare è quella di far scorrere la sostanza plastica dell'universo negli schemi di pensiero forniti dalla vostra immagine o dal vostro desiderio. Capitolo 2 Come attrarre a voi le cose che desiderate Il potere dentro di voi che vi consente di creare un'immagine mentale è il punto di partenza di tutto ciò che esiste. Nel suo stato originale è la sostanza indifferenziata e priva di forma della vita. L'immagine mentale forma lo stampo, per così dire, in cui prende forma questa sostanza priva di forma. Visualizzare o vedere mentalmente le cose e le situazioni come si desidera che siano è la condensazione, il potere speciale in voi che potrebbe essere illustrato dalla lente di una lanterna magica. La lanterna magica è uno dei simboli migliori di questa facoltà di produrre immagini. Illustra il funzionamento dello spirito creativo sul piano dell'iniziativa e della selezione o nella sua forma speciale concentrata in un modo incredibilmente chiaro. Questa diapositiva raffigura la vostra immagine mentale, invisibile nella lanterna della vostra mente fino a quando non accendete la luce della vostra volontà. Vale a dire, illuminate il vostro desiderio con una fede assoluta che lo spirito creativo della vita, dentro di voi, sta lavorando per voi. Mediante il flusso costante di luce della volontà sullo spirito, la vostra immagine desiderata viene proiettata sullo schermo del mondo fisico, una riproduzione esatta della diapositiva raffigurata nella vostra mente. Visualizzare senza una volontà sufficientemente stabile, in grado di inibire ogni pensiero e sensazione contraria alla vostra immagine, sarebbe inutile come una lanterna magica senza la luce. D'altro canto, se la vostra volontà è sufficientemente sviluppata da poter trattenere la vostra immagine nel vostro pensiero e nei vostri sentimenti senza alcun e se, semplicemente realizzando che il vostro pensiero è la grande forza di attrazione, allora è certo che la vostra immagine mentale sarà proiettata sullo schermo del mondo fisico come qualsiasi diapositiva inserita nella migliore lanterna magica mai creata. Provate a proiettare l'immagine in una lanterna magica con una luce che si sposta costantemente da un lato all'altro e avrete l'effetto di una volontà incerta. È talmente necessario non lasciarsi influenzare dalla propria immagine mantenendo salda e costante la propria volontà come lo è avere una forte stabile luce dalla propria diapositiva. La gioiosa sicurezza con cui si crea la propria immagine è il potentissimo magnete della fede e nulla può distruggerlo. Vi sentirete più felici che mai perché avrete imparato a conoscere dove si trova la fonte delle risorse e vi affiderete la sua infallibile risposta sulla direzione da seguire. Quando tutto è stato detto e fatto la felicità è l'unica cosa che ogni essere umano desidera e lo studio della visualizzazione vi consente di ottenere molto più dalla vita di quanto abbiate già avuto. Continueranno a presentarsi sempre più possibilità davanti a voi. Un uomo d'affari una volta mi disse che da quando praticava la visualizzazione aveva sviluppato l'abitudine di dedicare alcuni minuti ogni giorno a pensare a come desiderava fosse il suo lavoro in modo generico e aperto. Nel giro di sei mesi i suoi affari erano più che raddoppiati. Il suo metodo consisteva nell'andare in una stanza ogni mattina prima di colazione e di fare un inventario mentale dei suoi affari come apparivano la sera precedente e poi renderlo più grande. Disse che era riuscito a espandersi sempre più finché i suoi affari erano notevolmente migliorati. Si vedeva nel suo ufficio mentre faceva tutto ciò che desiderava. La sua occupazione gli imponeva di incontrare molti estranei ogni giorno. Nella sua immagine mentale si vedeva mentre incontrava queste persone, comprendeva i loro bisogni e offriva loro tutto ciò che desideravano. Quest'abitudine disse aveva rafforzato e stabilizzato la sua volontà in maniera quasi inconcepibile. Inoltre vedendo mentalmente le cose come le desiderava aveva acquisito una sensazione di fiducia che una certa forza creativa stava agendo per lui e attraverso lui con lo scopo di migliorare il suo piccolo mondo. Quando iniziate a visualizzare seriamente per la prima volta potreste sentirvi come molte altre persone che qualcun altro sta creando la vostra stessa immagine e che naturalmente questo non potrebbe soddisfare il vostro scopo. Non createvi preoccupazioni inutili al riguardo. cercate semplicemente di rendervi conto che la vostra immagine è un ordinato esercizio del potere creativo universale specificatamente applicato. Allora sarete sicuri che nessuno potrà operare contro di voi. Cercate di tenere a mente che la vostra immagine mentale è la mente universale che esercita in modo specifico il suo potere intrinseco di iniziativa e selezione. Dio o la mente universale ha creato l'uomo con lo scopo speciale di differenziare se stesso attraverso lui. Tutto ciò che è si è creato in questo stesso modo da questa stessa legge di autodifferenziazione e per lo stesso scopo. In primo luogo l'idea l'immagine mentale o il prototipo della cosa che è la cosa stessa nella sua incipienza o forma plastica. Il grande architetto dell'universo ha contemplato se stesso manifestandosi attraverso il suo esatto opposto la materia e l'idea si è espansa e proiettata fino a formare un mondo molti mondi. Molte persone chiedono ma perché dobbiamo avere un mondo fisico? La risposta è perché è nella natura della sostanza originaria solidificarsi sotto la direttività piuttosto che l'attività proprio come è nella natura della cera indurirsi quando esposta all'aria o l'intonaco di Parigi diventare duro e solido quando esposto all'aria. La vostra immagine è questa stessa sostanza divina nel suo stato fluido che prende forma attraverso il centro individualizzato dell'operazione divina la vostra mente e non c'è nessun potere che impedisca a questa combinazione di sostanza spirituale di trasformarsi in forma fisica. È nella natura dello spirito completare il suo lavoro e un'idea non è completa fino a quando non si è trasformato in un veicolo. nulla può impedire alla vostra immagine di trasformarsi in forma concreta tranne lo stesso potere che lo ha dato alla luce voi stessi. Supponiamo che desideriate avere una stanza più ordinata osservate la vostra stanza e l'idea di ordine vi suggerisce scatole armadi mensole appendini e così via. La scatola all'armadio e gli appendini sono tutte idee concrete di ordine mezzi attraverso cui l'ordine e l'armonia si propongono. Capitolo 3 Relazione tra forma mentale e fisica Alcune persone ritengono che non è del tutto corretto visualizzare per ottenere le cose è troppo materiale dicono ma la forma materiale è necessaria per l'autoriconoscimento dello spirito dal punto di vista individuale e questo è il mezzo attraverso il quale il processo creativo viene portato avanti pertanto essendo la materia tutt'altro che un'illusione e qualcosa che non dovrebbe esistere come hanno insegnato alcuni insegnanti di metafisica la materia è il canale necessario per l'autodifferenziazione dello spirito tuttavia non è mio desiderio condurvi in lunghi e noiosi ragionamenti scientifici per rimuovere il mistero della visualizzazione e per dargli un fondamento logico naturalmente ogni individuo lo farà a modo suo il mio unico desiderio è di indicarvi il modo più scorrevole che io conosca che è la strada con cui Troward mi guida sono sicura che trarrete le stesse mie conclusioni che l'unico mistero in connessione alla visualizzazione è il mistero della vita che prende forma governato da leggi immutabili e facilmente comprensibili tutti noi possediamo più potere e maggiori possibilità di quanto ce ne rendiamo conto e visualizzare è uno dei più grandi di questi poteri porta altre possibilità alla nostra attenzione quando ci fermiamo un momento per pensare ci rendiamo conto che un cosmo per esistere deve essere il risultato di una mente cosmica che unisce tutte le menti individuali ad una certa unità generica di azione producendo in tal modo tutte le cose come realtà e niente come illusioni se prenderete in considerazione questo pensiero di Troward e mediterete su di esso senza pregiudizio sicuramente comprenderete che la forma materiale concreta è una necessità assoluta del processo creativo inoltre la materia non è un'illusione ma un canale necessario attraverso cui la vita si differenzia se considerate la materia nel suo ordine corretto come l'esatto opposto allo spirito non troverete alcun antagonismo tra di loro al contrario insieme formano un tutt'uno armonioso e quando comprenderete questo nel praticare la visualizzazione sentirete che state lavorando da causa a effetto dall'inizio alla fine in realtà la vostra immagine mentale è opera specializzata dello spirito originario si potrebbe parlare per ore su linee puramente scientifiche dimostrando come dice Troward che la materia prima necessaria alla formazione del sistema solare è universalmente distribuita in tutto lo spazio eppure degli studi dimostrano che mentre i cieli sono costellati da milioni di soli ci sono spazi che non mostrano alcun segno di attività cosmica se questo fosse vero ci deve essere stato qualcosa che ha avviato l'attività cosmica in alcuni luoghi tralasciandone altri dove la materia prima era ugualmente disponibile in un primo momento si potrebbe attribuire lo sviluppo dell'energia cosmica alle particelle eteriche stesse secondo alcune ricerche tuttavia troviamo che questo sia matematicamente impossibile in un mezzo che è equamente distribuito nello spazio perché tutte queste particelle sono in equilibrio pertanto nessuna particella possiede in sé un potere di movimento originario rispetto all'altra pertanto troviamo che il movimento iniziale pur lavorando dentro e attraverso le particelle di sostanza primaria non sono le particelle stesse è questo qualcosa che intendiamo quando parliamo di spirito lo stesso potere che ha portato all'esistenza la sostanza universale trasformerà il vostro pensiero individuale o l'immagine mentale in forma fisica non vi è alcuna differenza di genere nel potere l'unica differenza è una differenza di scala il potere stesso e la sostanza stessa sono uguali è solo elaborando la vostra immagine mentale che essa ha trasferito la sua energia creativa dall'universale alla scala del particolare e sta lavorando nello stesso infallibile modo dal suo centro specifico la vostra mente capitolo 4 come funziona la tua immagine mentale e desiderio il funzionamento di un grande sistema telefonico potrebbe essere usato come una similitudine la centrale principale o primaria si suddivide in diverse filiali ogni filiale in collegamento diretto con la sua fonte e ogni singola filiale in grado di riconoscere la fonte della sua esistenza riferisce tutte le persone le cose alla centrale principale pertanto quando sarà richiesta assistenza di qualsiasi natura come nuove forniture riparazioni difficili da effettuare o altro la filiale bisognosa si rivolgerà immediatamente alla centrale principale non penserebbe mai di riferire le sue attività o i suoi successi al centro principale di un sistema telegrafico anche se appartengono alla stessa organizzazione queste diverse filiali sanno che l'unico rimedio per qualsiasi difficoltà deve provenire dalla centrale principale da cui sono state progettate se noi come filiali individuali della mente universale riferissimo le nostre difficoltà con la stessa fiducia alla fonte da cui siamo stati progettati e usassimo i rimedi che ci ha fornito ci renderemmo conto cosa intendeva Gesù quando disse chiedete e vi sarà dato ogni nostra necessità sarebbe soddisfatta sicuramente il padre deve supportare il figlio il tronco dell'albero non può non provvedere ai suoi rami qualsiasi cosa animata o inanimata viene messa in esistenza o sospesa da un potere che di per sé non emerge il potere che crea l'immagine mentale la sostanza spirituale originaria del vostro desiderio non emerge proietta la sostanza di sé che è una controparte solidificata di se stessa mentre rimane invisibile all'occhio fisico solo coloro che sono in grado di comprendere cosa intendeva Paolo quando disse i mondi sono stati creati dalla parola di Dio le cose che si vedono non sono fatte di cose apparenti sapranno apprezzare il valore della visualizzazione non c'è niente di insolito o misterioso nell'idea della vostra immagine mentale che si trasforma in evidenza materiale è l'opera della legge naturale universale il mondo è stato proiettato dall'autocontemplazione della mente universale e questa stessa azione si svolge nella sua filiale individualizzata che è la mente dell'uomo tutte le cose del mondo hanno avuto inizio nella mente e vengono create esattamente allo stesso modo dal cappello sulla vostra testa agli stivali sui vostri piedi tutti sono pensieri proiettati solidificati il vostro progresso nell'evoluzione personale dipende dall'uso corretto del potere di visualizzare e il suo uso dipende dal fatto di saper riconoscere che voi stessi siete un centro particolare attraverso e in cui lo spirito originario sta trovando una nuova espressione per potenzialità già esistenti in se stesso questa è evoluzione questo continuo di spiegarsi di cose esistenti anche se esteriormente invisibili la vostra immagine mentale è la forza di attrazione che si evolve e trasforma la sostanza originaria in una forma specifica la vostra immagine è la potenza che si evolve e unisce per così dire attraverso la quale lo spirito creativo originario si è espresso la sua azione creativa è illimitata senza inizio e senza fine è sempre graduale e ordinata procede fase per fase essendo ciascuna fase una preparazione necessaria da seguire ora vediamo se riusciamo a farci un'idea delle varie fasi con cui le cose nel mondo sono diventate tali Trower dice se riusciamo ad arrivare al principio di funzionamento che sta producendo questi risultati possiamo dargli molto velocemente e facilmente un'applicazione personale in primo luogo scopriamo che il pensiero di vita originario o spirito è la sua semplice consapevolezza del proprio essere e questo ha prodotto un etere primario una sostanza universale da cui tutto nel mondo deve crescere inoltre Trower ci dice che anche se questa consapevolezza dell'essere è una base necessaria per qualsiasi ulteriore possibilità non c'è molto da dire è lo stesso con lo spirito individualizzato cioè voi stessi prima di prendere in considerazione l'idea di creare un'immagine mentale del vostro desiderio in modo pratico si deve avere un'idea del proprio essere del vostro io sono e non appena sarete consapevoli del vostro essere inizierete a desiderare di godere della libertà che questa coscienza suggerisce vorrete fare di più ed essere di più e mentre realizzate questo desiderio dentro di voi lo spirito localizzato inizia attività coscienti in voi la cosa che più vi preoccupa è l'azione specifica dello spirito creativo della vita mente universale specializzata il dio seme localizzato in voi è la vostra personalità la vostra individualità e dal momento che la gioia della libertà assoluta è la natura innata di questo dio seme è naturale che essa cerchi di provare gioia attraverso il suo centro specifico e mentre crescete nella comprensione che il vostro essere la vostra individualità è dio stesso che si particolarizza svilupperete naturalmente tendenze divine volete godervi la vita e la libertà volete la libertà nei vostri affari così come nella vostra consapevolezza ed è naturale che sia così sempre con questo desiderio progressivo c'è un debole pensiero immagine man mano che il vostro desiderio e la vostra identificazione si trasformano in un desiderio intenso questo desiderio diventa una chiara immagine mentale ad esempio una giovane donna che studia musica desidera possedere un pianoforte per esercitarsi a casa desidera il pianoforte talmente tanto che già lo vede mentalmente in una delle sue stanze trattiene un'immagine del pianoforte e si indulge nella riflessione mentale di quale sarebbe il piacere e il vantaggio di avere il pianoforte nell'angolo del suo salotto un giorno lo trova là proprio come lo aveva immaginato man mano che crescete nella consapevolezza di chi siete da dove venite quale sia lo scopo del vostro essere e come dovete raggiungere lo scopo per il quale siete destinati vorrete concedervi sempre più un centro attraverso cui lo spirito creativo della vita potrà godere di se stesso e vi renderete conto che ci può essere solo un processo creativo che riempie tutto lo spazio che è lo stesso nella sua potenzialità sia universale che individuale inoltre tutto ciò che esiste sia sul piano del visibile che dell'invisibile ha avuto origine nell'azione localizzata del pensiero o dell'immagine mentale e questo include voi stessi perché voi siete uno spirito universale localizzato e la stessa azione creativa sta avendo luogo attraverso voi ora senza dubbio vi starete chiedendo perché ci sono così tante malattie e miserie nel mondo se lo stesso potere e la stessa intelligenza che hanno portato il mondo all'esistenza sono un'opera che avviene nella mente umana perché non si manifesta sotto forma di forza gioia salute e abbondanza se è possibile realizzare i desideri semplicemente creando un'immagine mentale di quel desiderio trattenendolo con la volontà e facendo senza ansia sul piano esterno tutto ciò che sembra necessario per realizzare il desiderio allora non sembra esserci motivo dell'esistenza di malattie e povertà sicuramente nessuno desidera questo il primo motivo è che poche persone si prenderanno la briga di indagare sul principio di funzionamento delle leggi della vita se lo facessero presto si convincerebbero che non c'è bisogno delle malattie e della povertà che vediamo attorno a noi si renderebbero conto che visualizzare è un principio e non un errore alcune persone hanno trovato utile studiare questa semplice anche se assolutamente infallibile legge che li libererà dalla schiavitù tuttavia la sfida nel suo complesso non è disposta a concedere il tempo necessario a questo studio è troppo semplice o troppo difficile per un giorno o due potranno creare un'immagine nel loro desiderio con una superficiale comprensione della visualizzazione ma più spesso è per un'ora o due ma se insisterete nel vedervi mentalmente circondati dalle cose e situazioni che desiderate capirete che l'energia creativa invia la sua sostanza plastica nella direzione indicata dalla tendenza dei vostri pensieri qui sta il vantaggio di trattenere i vostri pensieri sotto forma di immagini mentali maggiore l'entusiasmo e la fede che sarete in grado di mettere nella vostra immagine più rapidamente essa si manifesterà nella forma visibile e il vostro entusiasmo aumenta mantenendo segreto il vostro desiderio nel momento in cui ne parlerete ad un'altra anima vivente il suo potere si indebolirà il vostro potere il vostro magnete di attrazione non sarà più così forte e di conseguenza non arriverà così lontano più attentamente custodirete un segreto tra la vostra mente e il vostro sé esteriore più vitalità darete alla vostra forza di attrazione si raccontano i propri problemi per indebolirli per toglierli dalla mente e quando cedete un pensiero la sua potenza si dissolve parlatene con voi stessi scrivetelo e poi distruggete il foglio tuttavia questo non significa che dovrete sforzarvi strenuamente per costringere il potere a elaborare la vostra immagine seguendo le linee speciali che pensate voi questo metodo presto vi esaurirà e ostacolerà la realizzazione del vostro obiettivo un parente ricco non deve necessariamente morire o una persona non deve prendere una fortuna per strada perché voi materializzate i 10.000 dollari che state immaginando mentalmente uno dei portinai dell'edificio in cui vivo aveva sentito spesso parlare ai clienti che venivano da me dell'immagine mentale dei desideri il desiderio più comune era di 500 dollari egli ritenne che 5 dollari fossero più in linea con lui e iniziò a visualizzarli senza aver la minima idea di come e dove li avrebbe ricevuti il mio pappagallo volò fuori dalla finestra e telefonai agli uomini nel cortile perché lo prendessero uno riuscì a catturarlo e il pappagallo gli morse un dito il portinaio che indossava dei guanti e che non temeva una ferita del genere lo prese e me lo consegnò gli diedi 5 banconote da un dollaro per il servizio questa ricompensa improvvisa lo sorprese mi disse con entusiasmo che aveva visualizzato solo 5 dollari semplicemente perché aveva sentito gli altri visualizzare era felice dell'inaspettata realizzazione della sua immagine mentale tutto ciò che dovete fare è creare un'immagine mentale del desiderio che vi sta a cuore trattenerla gioiosamente ferma con la vostra volontà sempre consapevoli del fatto che lo stesso potere infinito che ha portato in esistenza l'universo ha dato forma a voi con lo scopo di provare gioia dentro e attraverso voi e poiché è tutto vita amore luce potere pace bellezza e gioia questo è l'unico potere creativo che esiste la forma che assume dentro e attraverso voi dipende dalla direzione che gli date dal vostro indicatore di pensiero in voi è indifferenziato in attesa di prendere la direzione indicata mentre passa attraverso lo strumento che ha creato ai fini dell'autodistribuzione è questo il potere che consente di trasferire i vostri pensieri da una forma all'altra il potere di cambiare idea è il potere universale individualizzato che prende l'iniziativa che dà la direzione alla sostanza fluida contenuta in ogni pensiero è la cosa più semplice al mondo dare a questa sostanza plastica altamente sensibile la forma desiderata attraverso la visualizzazione chiunque può farlo con un piccolo dispendio di energia quando credete veramente che la vostra mente è un centro attraverso cui la sostanza plastica di tutto ciò che esiste nel vostro mondo prende una forma involontaria l'unico motivo per cui la vostra immagine non sempre si materializza è perché avete introdotto qualcosa di ostile al principio di base molto spesso questo elemento distruttivo è causato dalla frequenza con cui cambiate le vostre immagini dopo molti cambiamenti decidete che il vostro desiderio originale è quello che volete dopo tutto giungendo a questa conclusione iniziate a chiedervi perché essendo stata la vostra prima immagine non si è materializzata la sostanza plastica con cui avete a che fare è più delicata della pellicola più delicata di un fotografo se scattando una foto improvvisamente vi ricordaste di aver già scattato una foto su quella stessa lastra non potrete aspettarvi un risultato perfetto di nessuna delle due immagini d'altro canto potreste aver scattato due immagini sulla stessa lastra inconsciamente quando la lastra è stata sviluppata e l'immagine è diventata visibile non condannerete il principio della fotografia né sarete confusi nel cercare di capire perché la vostra immagine è risultata così insoddisfacente non ritenete che sia impossibile ottenere una bella e chiara immagine del soggetto in questione sapete che potete farlo semplicemente partendo dall'inizio inserendo una nuova lastra e decidendo di essere più attenti mentre scattate la prossima foto seguendo queste linee sarete sicuri di ottenere un risultato soddisfacente se procedete nello stesso modo con la vostra immagine mentale facendo la vostra parte in uno stato d'animo adeguatamente fiducioso il risultato sarà altrettanto perfetto le leggi della visualizzazione sono infallibili come le leggi che regolano la fotografia in effetti la fotografia è il risultato della visualizzazione ancora una volta i vostri risultati ottenuti con la visualizzazione e i vostri desideri possono risultare imperfetti o ritardare la causa di un uso improprio di questo potere dovuto al pensiero che l'adempimento del vostro desiderio sia subordinato a determinate persone o condizioni il principio originario non dipende in alcun modo da una persona luogo o cosa non ha passato e non conosce futuro la legge sta nel fatto che il principio creativo originario della vita è l'universale qui ed eterno ora esso crea i suoi mezzi attraverso i quali operare pertanto le esperienze passate non hanno alcuna rilevanza sulla vostra immagine presente quindi non cercate di ottenere il vostro desiderio attraverso un canale che potrebbe non essere naturale per esso anche se vi potrebbe sembrare ragionevole la vostra sensazione dovrebbe essere che la cosa o la consapevolezza che tanto desiderate è normale e naturale una parte di voi una forma per la vostra evoluzione se sarete in grado di fare ciò non c'è alcun potere che vi possa impedire di provare gioia e soddisfazione per l'immagine che avete in mano o qualsiasi altra capitolo 5 espressioni dei principianti centinaia di persone hanno capito che visualizzare è una lampada di aladino con una potente volontà il generale Foch afferma che i suoi sentimenti erano talmente indignati durante la guerra franco-prussiana nel 1870 che si visualizzò mentre capeggiava un esercito francese contro i tedeschi conducendoli verso la vittoria disse di aver creato la sua immagine fumato la sua pipa e aspettato questo è uno dei risultati della visualizzazione che tutti conosciamo una famosa attrice scrisse un lungo articolo in uno dei principali giornali della domenica lo scorso inverno descrivendo come fosse riuscita a liberarsi dai suoi chili di troppo vedendo costantemente il suo fisico come lo desiderava mentre tenevo una conferenza a New York ricevetti una lettera interessante dalla moglie di un medico iniziò dicendo che sperava io non smettessi mai le mie lezioni sulla visualizzazione che facevano capire agli esseri umani il fatto meraviglioso che essi posseguono il metodo di liberazione in se stessi raccontando la propria esperienza disse che era nata sul lato est di New York nel quartiere più povero fin dai primi anni dell'adolescenza aveva custodito il sogno di sposare un medico un giorno gradualmente questo sogno formò un'immagine mentale stazionaria il primo posto di lavoro che trovò fu come bambinaia nella famiglia di un medico quando lasciò questa famiglia entrò nella famiglia di un altro medico la moglie del suo datore di lavoro morì e dopo un po' di tempo lui la sposò il risultato del suo desiderio a lungo immaginato in seguito sia lei che suo marito concepirono l'idea di possedere un'azienda ortofrutticola nel sud crearono un'immagine mentale di quell'idea e posero la loro fede nella sua eventuale realizzazione la lettera che mi inviò proveniva dalla loro azienda ortofrutticola nel sud la moglie del medico mi aveva scritto mentre si trovava alla fattoria la sua seconda immagine mentale aveva visto la luce della materializzazione molte lettere di natura simile mi arrivano ogni giorno quanto segue è un caso stampato sul New York Herald lo scorso maggio Atlantic City 5 maggio era un'anziana signora e quando fu citata in giudizio davanti al giudice Klassens Goldenberg nella corte di giustizia oggi era talmente debole e stanca che riusciva a malapena stare in piedi il giudice chiese al funzionario di cosa era accusata ha rubato una bottiglia di latte vostro onore rispose lui la presa sull'uscio di un cottage del centro questa mattina prima dell'alba perché ha fatto questo le chiese il giudice Goldenberg avevo fame disse l'anziana signora non avevo un centesimo in tutto il mondo e non avevo altro modo di procurarmi qualcosa da mangiare che rubare credevo non sarebbe importato a nessuno se prendevo una bottiglia di latte come si chiama chiese il giudice Weinberg disse l'anziana signora Elisabeth Weinberg il giudice Goldenberg le fece alcune domande personali poi disse bene non è molto ricca ora ma non è più povera la cercavo da mesi ho 500 dollari che le appartengono come eredità di un parente sono l'esecutore testamentario il giudice Goldenberg pagò di tasca sua la multa della signora e poi la accompagnò nel suo ufficio dove le consegnò la sua eredità e mandò un poliziotto a cercarle un alloggio in seguito venne a sapere che questa anziana signora aveva desiderato e immaginato mentalmente 500 dollari ignara per tutto il tempo di come sarebbero potuti arrivare ma aveva mantenuto la sua visione e l'aveva rafforzata con la sua fede in un recente numero di Good Housekeeping c'era un articolo incredibile scritto da Eddington Bruce intitolato Stiffening Your Mental Blackbone irrigidire la vostra spina dorsale mentale è molto istruttivo e gioverebbe a chiunque leggerlo e gli dice in parte create l'abitudine di dedicare alcuni momenti ogni giorno a pensare al vostro lavoro in maniera estesa ampia e fantasiosa come una necessità vitale per voi stessi e un servizio utile per la società Huntington il grande magnate delle ferrovie prima di iniziare a costruire la sua strada da costa a costa disse di aver fatto centinaia di viaggi lungo tutta la linea prima che venisse costruita una ferrovia si dice che si sedeva per ore con una mappa degli Stati Uniti davanti a lui e mentalmente viaggiava da costa a costa proprio come facciamo ora sulla sua immagine mentale realizzata sarebbe possibile richiamare la vostra attenzione su centinaia di casi simili il metodo migliore è far credere a se stessi che ciò che si desidera è sia semplice che piacevole se si arriva a comprendere il principio che sta dietro adesso sufficientemente da crederci in primo luogo e sopra ad ogni cosa dovete essere sicuri di cosa volete veramente poi specializzate il vostro desiderio lungo queste linee capitolo 6 consigli per creare la propria immagine mentale forse volete provare la sensazione di aver vissuto dando un senso alla propria vita volete sentirvi appagati e felici e sapete che con una buona salute e un'attività di successo potrete godere di questo stato mentale dopo aver deciso una volta per tutte che questo è ciò che desiderate procederete immaginandovi sani con la vostra attività che continua a crescere tanto quanto riuscite a concepirla il momento migliore per creare la vostra immagine definita è appena prima di colazione e prima di coricarsi la sera dato che è necessario concedersi parecchio tempo potrebbe essere necessario alzarsi prima del solito andate in una stanza dove non sarete disturbati meditate per qualche istante sul funzionamento pratico della legge di visualizzazione e chiedetevi come hanno avuto origine le cose riguardo a me come può essermi utile connettermi più velocemente con l'abbondanza invisibile alcuni hanno ritenuto che il comfort sarebbe meglio espresso e vissuto sedendosi su una sedia piuttosto che sul pavimento l'inizio della meditazione la sedia rappresenta il desiderio di stare comodi con questo arriva l'immagine di qualche tipo di sedia lo stesso principio si applica al cappello e agli indumenti che indossate pensate attentamente al principio che sta dietro alla cosa stabilitelo come un'esperienza personale rendetelo un dato di fatto per la vostra coscienza se sarete meticolosi vi troverete in una profonda consapevolezza sotto alla superficie del vostro stesso pensiero potere poi aprite una finestra fate una decina di respiri profondi e nel frattempo disegnate un grande cerchio di luce immaginario attorno a voi mentre inspirate rimanendo al centro di questo cerchio di luce immaginate grandi raggi di luce provenienti dal cerchio che entrano nel vostro corpo su tutti i lati concentrandosi nel vostro plesso solare trattenete il fiato per qualche istante concentrandovi su questo centro di luce nel vostro corpo il plesso solare poi espirate lentamente mentre fate questo mentalmente immaginate dei raggi o spruzzi di luce che salgono nel vostro corpo e scendono per poi uscire dai piedi spruzzate lentamente tutto il vostro corpo con questa luce immaginaria quando avrete terminato l'esercizio di respirazione sedetevi dritti su una sedia comoda e riconoscete mentalmente che esiste una sola vita una sostanza e che questa sostanza vitale dell'universo trova piacere nell'autoriconoscimento dentro di voi ripetete alcune affermazioni di questo tipo fino a quando sentite la verità e la realtà delle parole che state affermando poi iniziate a creare la vostra immagine che il vostro desiderio sia per uno stato di coscienza o per un bene materiale grande o piccolo partite dall'inizio se volete una casa iniziate vedendovi nel tipo di casa che desiderate passatela tutta prendendo accuratamente nota delle stanze dove sono situate le finestre e altri dettagli che vi aiutano a sentire la realtà del vostro concetto potete cambiare l'arredamento e guardarvi in alcuni degli specchi per vedere quanto siete sani ricchi e felici riguardate la vostra immagine più volte fino a quando appare reale poi scrivete tutto quello che avete visto con la sensazione di il meglio che c'è è mio non ci sono limiti in me perché la mia mente è un centro di operazione divina e state certi che la vostra immagine diventerà realtà nel vostro mondo fisico come è vero che il sole brilla capitolo 7 cose da ricordare quando usate il vostro potere per produrre nuove condizioni 1 assicuratevi di sapere quali condizioni desiderate produrre poi valutate attentamente quali ulteriori risultati porterà la realizzazione del vostro desiderio 2 lasciando che il pensiero si soffermi su un'immagine mentale state concentrando lo spirito creativo sul suo centro dove tutte le sue forze sono equamente bilanciate 3 visualizzare sposta la vostra mente oggettiva in uno stato di equilibrio che consente di dirigere consciamente il flusso dello spirito verso uno scopo chiaramente riconosciuto e di guidare attentamente i vostri pensieri per evitare di includere un flusso nella direzione opposta 4 dovete sempre tenere presente che state operando con una meravigliosa energia potenziale che non è ancora differenziata in nessuna forma particolare e che con l'azione della vostra mente voi potete differenziarla in qualsiasi forma specifica che volete la vostra immagine vi aiuta a mantenere la mente fissa sul fatto che l'afflusso di questa energia creativa si sta verificando inoltre con la vostra immagine mentale state determinando quale direzione volete che prenda il potere sensibile e facendo ciò l'esternalizzazione della vostra immagine è una certezza 5 ricordate che quando visualizzate correttamente non vi è alcuno sforzo faticoso nei vostri pensieri per riuscire a mantenere la forma del pensiero al suo posto uno sforzo faticoso sconfigge il vostro obiettivo e suggerisce alla coscienza la presenza di una forza avversa da combattere e questo crea condizioni avverse alla vostra immagine 6 mantenendo la vostra immagine in uno stato mentale felice chiudete fuori tutti i pensieri che potrebbero disperdere il nucleo spirituale della vostra immagine essendo la legge creativa nella sua azione è certo che il vostro desiderio immaginato sarà realizzato 7 la settima e più importante cosa da ricordare durante la visualizzazione è che state creando un'immagine mentale con lo scopo di determinare la qualità che state dando alla sostanza e all'energia indifferenziata in precedenza piuttosto che organizzare le circostanze specifiche per la sua manifestazione questo è il lavoro del potere creativo stesso costruirà le proprie forme di espressione in modo del tutto naturale e vi farà risparmiare una grande quantità di ansia inutile quello che volete veramente è l'espansione di una certa direzione per la salute la prosperità e quant'altro e fin tanto che la si ottiene come sicuramente accadrà se mantenete con fiducia la vostra immagine che importanza ha se arriva a voi tramite un canale su cui pensavate di poter fare affidamento o attraverso qualcos'altro di cui ignoravate l'esistenza state concentrando un tipo particolare di energia per uno scopo particolare ricordatevi questo e lasciate che i dettagli più specifici si prendano cura di se stessi e non accennate mai a nessuno la vostra intenzione ricordatevi sempre che la natura dalla sua superficie chiaramente visibile alle sue profondità più arcane è un vasto magazzino di luce e bene interamente dedicato al vostro uso individuale la vostra unicità consapevole con l'immenso tutt'uno è il segreto del successo e quando avrete compreso questo potrete godervi il vostro possedimento interamente o in parte secondo la vostra volontà perché secondo la vostra consapevolezza voi lo avete creato e potete sempre più renderlo vostro non dimenticate mai che ogni cosa fisica sia per voi che contro di voi è stato un pensiero costante prima di diventare una cosa pertanto i pensieri su cui vi soffermerete diventano le cose che possedete o non possedete capitolo 8 perché ho intrapreso lo studio della scienza della mente spesso mi è stato chiesto per quale motivo ho intrapreso lo studio della scienza della mente e per quanto riguarda i risultati della mia ricerca non solo nella conoscenza dei principi ma anche nell'applicazione di tale conoscenza per lo sviluppo della mia vita e della mia esperienza tali domande sono giustificabili perché chi intraprende il ruolo di messaggero e insegnante di verità psicologiche può essere efficace e convincente solo se le attestate nel laboratorio dell'esperienza mentale nel mio caso questo è particolarmente vero essendo stata l'unica allieva personale di Thomas Troward il più grande maestro della scienza della mente al giorno d'oggi i cui insegnamenti sono basati sulla relazione supportata dalla mente individuale verso la mente creativa universale che è la donatrice della vita e del modo in cui tale relazione può essere invocata per garantire l'espansione e l'espressione più completa nella vita individuale l'impulso iniziale verso lo studio della scienza della mente era un opprimente senso di solitudine in ogni vita deve verificarsi un'esperienza di isolamento spirituale come quello che durante quel periodo ha pervaso la mia vita nonostante il fatto che ogni giorno mi trovassi in mezzo ai miei amici circondata da allegria e gioia c'era una persistente sensazione che ero sola al mondo ero vedova da circa tre anni vagavo da un paese all'altro in cerca di serenità le circostanze e gli ambienti che circondavano la mia vita erano tali che i miei amici mi consideravano una giovane donna insolitamente fortunata anche se riconoscevano che avevo subito una grossa perdita quando morì mio marito sapevano che mi aveva lasciato in buone condizioni finanziarie libera di andare ovunque a mio piacere e la possibilità di avere molti amici eppure se i miei amici avessero potuto penetrare le mie emozioni più profonde avrebbero trovato un profondo senso di vuoto isolamento questa sensazione aveva suscitato in me uno spirito di agitazione che mi ha spinto in una ricerca esterna infruttuosa e senza sosta per ciò che ho imparato in seguito poteva essere ottenuto solo dall'interno ho studiato la scienza cristiana ma non mi ha dato alcun conforto anche se riconoscevo appieno il grande lavoro svolto dagli scienziati e avendo anche avuto il piacere e il privilegio di incontrare personalmente la signora Eddie ma per me era impossibile accettare i fondamenti degli insegnamenti della scienza cristiana e applicarla in modo pratico quando stavo per abbandonare la mia ricerca di appagamento e rassegnarmi a riprendere una vita di apparente divertimento un mio amico mi invitò a far visita al grande veggente e maestro Abdul Baha dopo la mia intervista con questo meraviglioso uomo la mia ricerca di appagamento iniziò a cambiare mi disse che avrei girato tutto il mondo in cerca della verità e quando l'avessi trovata l'avrei diffusa la realizzazione di questa affermazione del grande veggente mi sembrava impossibile in quel momento ma conteneva una grande dose di incoraggiamento e almeno mi aveva indicato che la mia precedente ricerca era diretta nella direzione sbagliata iniziai in modo debole e avanzando a tentoni a trovare appagamento dentro me stessa perché non aveva lasciato intendere che dovevo trovare la verità questa era la cosa più importante e l'unica che ricordo della nostra intervista dopo alcuni giorni dopo aver visitato l'ufficio di un praticante del nuovo pensiero la mia attenzione fu attratta da un libro sul suo tavolo intitolato The Edinburgh Lectures on Mental Science di Thomas Troward mi incuriosì il fatto che Troward era un giudice in pensione del Punjab in India acquistai il libro pensando che l'avrei letto tutto quella sera molti hanno cercato di fare la stessa cosa solo per scoprire come ho fatto io che il libro deve essere studiato per essere compreso e in centinaia hanno deciso proprio come me di dargli la loro completa attenzione dopo aver trovato questo libro del tesoro andai per alcuni giorni in campagna e mentre ero là studiai il volume il più accuratamente possibile sembrava estremamente difficile e decisi di acquistare un altro libro di Troward nella speranza che il suo studio non richiedesse così tanto impegno su richiesta mi fu detto che un volume successivo The Door Lectures era molto più semplice e migliore dell'altro libro quando me lo procurai scopri che anche questo andava studiato ci impiegai settimane e mesi per capire solo vagamente il concetto del primo capitolo di Door che si intitolava Entering into the Spirit of It con questo voglio dire che impiegai mesi per entrare nello spirito di quello che stavo leggendo ma nel frattempo un paragrafo che iniziava a pagina 26 attirò la mia attenzione come se fosse stata la cosa più interessante che avessi mai letto lo memorizzai e cercai con tutta la mia anima di entrare nello spirito delle parole di Troward il paragrafo dice la mia mente è un centro dell'operazione divina l'operazione divina è sempre per l'espansione e la completa espressione e questo significa la produzione di qualcosa al di là di cosa è stato prima qualcosa di completamente nuovo non incluso nelle esperienze passate sebbene sia una continuazione di esse che procede in una sequenza ordinata di crescita pertanto dal momento che il divino non può cambiare la sua natura intrinseca deve operare nello stesso modo con me di conseguenza nel mio mondo speciale di cui io sono il centro andrà avanti per produrre nuove condizioni sempre in anticipo rispetto a quelle che sono già passate mi costò grande fatica memorizzare questo paragrafo ma nello sforzo per raggiungere questo obiettivo le parole sembravano portare con sé un certo stimolo ogni ripetizione del paragrafo rendeva più facile per me entrare nello spirito di esso le parole esprimevano esattamente cosa stavo cercando il mio unico desiderio era la serenità trovavo confortante credere che l'operazione divina in me poteva espandersi in un'espressione più completa e produrre sempre più appagamento infatti una serenità e un grado di appagamento maggiore di quanto avessi mai conosciuto il paragrafo mi ispirò ulteriormente con profondo interesse a sentire che la scintilla della vita in me poteva portare nella mia vita qualcosa di completamente nuovo non volevo non volevo cancellare la mia esperienza passata ma questo era esattamente ciò che troward disse che non avrebbe fatto l'opera divina non avrebbe escluso le mie esperienze passate ma procedendo da esse avrebbe portato qualcosa di nuovo che avrebbe oltrepassato tutto ciò che avevo sperimentato prima la meditazione su queste dichiarazioni portarono con sé una certa sensazione di gioia che cosa meravigliosa sarebbe se potessi accettare e sinceramente credere al di là di ogni dubbio che questa affermazione di troward era vera sicuramente il divino non poteva cambiare la sua natura intrinseca e dal momento che la vita divina sta operando in me devo essere divinamente abitato e il divino in me deve operare proprio come opera sul piano universale questo significa che tutto il mio mondo di circostanze amici e condizioni sarebbe infine diventato un mondo di appagamento e divertimento di cui io sono il centro questo sarebbe successo non appena fossi stata in grado di controllare la mia mente e quindi fornire un centro concreto attorno a cui le energie divine avrebbero potuto giocare sicuramente valeva la pena provare se troward aveva trovato questa verità perché non anch'io l'idea mi condusse al mio obiettivo in seguito decisi di studiare con l'uomo che aveva realizzato e dato al mondo una dichiarazione così grande mi aveva sollevato dal mio stato di sconforto la difficoltà immediata è stata la necessità di aumentare le finanze capitolo come ho attirato 20.000 dollari nel laboratorio dell'esperienza in cui il mio rapporto appena rivelato con l'operazione divina stava per essere messo alla prova il primo problema era di natura finanziaria il mio reddito era stato concordato era sufficiente per le mie necessità quotidiane ma non era sufficiente per consentirmi di andare comodamente in inghilterra dove viveva troward e di rimanerci per un periodo indefinito per studiare con un così grande maestro come doveva essere lui quindi prima di informarmi se troward prendeva allievi e se in quel caso io fossi stata idonea iniziai a usare il paragrafo che avevo memorizzato ogni giorno in effetti ogni ora le parole erano nella mia mente la mia mente è un centro di operazione divina e la divina operazione significa espansione in qualcosa di migliore rispetto a ciò che è già stato dalle lezioni di edimburgo avevo letto qualcosa sulla legge di attrazione e dal capitolo di cause e condizioni avevo una vaga idea di come visualizzare quindi ogni sera prima di addormentarmi creavo un'immagine mentale dei miei desiderati 20.000 dollari 20 banconote da mille dollari venivano contate ogni sera nella mia camera e poi con l'idea di imprimere più enfaticamente la mia mente con il fatto che questi 20.000 dollari servivano ad andare in inghilterra a studiare con troward scrissi la mia immagine mi immaginai mentre acquistavo il biglietto per il vaporetto camminare su e giù sul ponte della nave da new york per londra e infine immaginai me stessa accettata come allieva di troward ripetevo questo processo tutte le mattine e tutte le sere imprimendo sempre più profondamente nella mia mente l'affermazione di troward la mia mente è un centro di operazione divina ho cercato di mantenere sempre questa affermazione nella parte posteriore della mia coscienza senza mai pensare a come avrei potuto ottenere il denaro probabilmente il motivo per cui non c'era alcun pensiero sulla via attraverso cui il denaro sarebbe arrivato a me era perché non potevo immaginare da dove sarebbero arrivati i 20.000 dollari quindi mantenni semplicemente il mio pensiero costante e lasciai che il potere di attrazione trovasse i suoi modi e i suoi mezzi un giorno mentre camminavo per strada facendo esercizi di respirazione profonda mi arrivò questo pensiero la mia mente è sicuramente un centro di operazione divina se Dio riempe tutto lo spazio allora Dio deve trovarsi anche nella mia mente se voglio questo denaro per studiare con Troward per conoscere la verità della vita allora sia il denaro che la verità devono essere miei anche se non sono in grado di sentire o vedere le manifestazioni fisiche di nessuno dei due ancora dichiarai deve essere mio mentre queste riflessioni occupavano la mia mente un pensiero sembrava crescere da dentro di me io sono tutta la sostanza che c'è poi da un altro canale del mio cervello sembrò arrivare la risposta naturalmente è così tutto deve avere il suo inizio nella mente io l'idea doveva essere l'unica e primaria sostanza che c'è e ciò significa denaro come tutto il resto la mia mente accettò questa idea e immediatamente tutta la tensione nella mia mente nel mio corpo si sciolse c'era una sensazione di assoluta certezza di essere in contatto con tutto il potere che la vita ha da offrire tutti i miei pensieri sul denaro sull'insegnante o perfino sulla mia stessa personalità svanirono nella grande ondata di gioia che travolse tutto il mio essere continuai a camminare con questa sensazione di gioia che cresceva e si espandeva costantemente fino a quando tutto in me sembrava brillare di luce splendente ogni persona che incontravo era illuminata come lo ero io tutta la consapevolezza sulla personalità era scomparsa e al suo posto arrivò quell'immenso e quasi travolgente senso di gioia e appagamento quella sera quando creai la mia immagine dei 20.000 dollari era con un aspetto completamente diverso in occasioni precedenti quando creavo la mia immagine mentale sentivo che stavo risvegliando qualcosa dentro di me questa volta non c'era alcuna sensazione di sforzo contai semplicemente 20.000 dollari poi in un modo un po' più inaspettato da una fonte di cui non avevo alcuna consapevolezza quel tempo sembrò aprirsi una possibile via attraverso cui il denaro sarebbe arrivato a me in un primo momento ci vuole un grande sforzo per non essere emozionata sembrava tutto talmente meraviglioso così glorioso essere in contatto con l'abbondanza ma Troward non aveva avvertito i suoi lettori di mantenere fuori dalla mente tutta l'emozione nel primo momento di consapevolezza dell'unione con l'infinita abbondanza e di affrontare questo fatto come un risultato perfettamente naturale che era stato raggiunto attraverso una nostra richiesta questo per me era ancora più difficile che mantenere il pensiero che tutta la sostanza che c'è sono io io idea sono l'inizio di tutte le forme visibili e invisibili non appena apparve la circostanza che indicava la direzione attraverso cui potevano arrivare i 20.000 dollari non solo feci uno sforzo supremo per considerare la direzione indicata con calma come fosse il germoglio del primo seme che avessi mai seminato ma non lasciai nulla di intentato per seguire quella direzione completando la mia parte facendo così una circostanza sembrava condurre naturalmente ad un'altra finché passo dopo passo i miei tanto desiderati 20.000 dollari erano assicurati mantenere la mia mente controllata e libera dall'emozione fu il mio sforzo più grande questa prima realizzazione del mio studio della scienza della mente come esposto nel libro di Troward arrivò da un'attenta osservazione dei metodi che egli aveva delineato a questo proposito pertanto non posso offrire ai lettori un regalo migliore che citare il libro di Troward The Edinburgh Lectures da cui potrebbe derivare un'idea completa della linea di azione che stavo cercando di seguire nel capitolo Cause e condizioni egli dice per ottenere dei buoni risultati dobbiamo capire correttamente la nostra relazione con il grande potere impersonale che stiamo usando è intelligente e noi siamo intelligenti e le due intelligenze devono cooperare non dobbiamo essere in contraddizione con la legge aspettandoci che faccia per noi ciò che può fare solo attraverso noi e dobbiamo pertanto usare la nostra intelligenza con la consapevolezza che essa sta agendo come strumento di un'intelligenza superiore e poiché abbiamo questa conoscenza possiamo e dobbiamo porre termine alla nostra ansia per raggiungere il risultato finale nella pratica reale dobbiamo innanzitutto formare la concezione ideale del nostro oggetto con l'intenzione definitiva di imprimerla nella mente universale è questo pensiero che porta tale pensiero fuori dalla ragione di semplici fantasie casuali e poi affermare che la nostra conoscenza della legge è un motivo sufficiente per una calma aspettativa di un risultato corrispondente e che pertanto tutte le condizioni necessarie ci arriveranno nell'ordine dovuto potremo poi ritornare alle nostre faccende quotidiane con la serena certezza che le condizioni iniziali sono già qua o presto saranno visibili se non le noteremo subito possiamo stare tranquilli sapendo che il prototipo spirituale è già in esistenza e aspettare fino a quando qualche circostanza che spunta nella direzione desiderata inizia a manifestarsi potrebbe essere una circostanza insignificante ma è la direzione e non la grandezza che deve essere tenuta in considerazione non appena la notiamo dovremmo considerarla come la prima germinazione del seme seminato nell'assoluto e con calma e senza agitazione fare quello che le circostanze sembrano richiedere e poi vedremmo che questo agire a sua volta porterà un'ulteriore circostanza nella stessa direzione finché ci ritroveremo condotti passo dopo passo alla realizzazione del nostro obiettivo in questo modo la comprensione del grande principio della legge dell'abbondanza dopo ripetute esperienze ci libererà sempre più dalla ragione dei pensieri ansiosi e dal lavoro faticoso per portarci in un nuovo mondo dove l'impiego utile di tutti i nostri poteri mentali o fisici saranno solo un aprirsi della nostra individualità sulle linee della sua stessa natura e pertanto una continua fonte di salute e felicità un'induzione sufficiente sicuramente all'attento studio delle leggi che regolano il rapporto tra l'individuo e la mente universale a mio avviso allora come adesso questa citazione illustra il cuore e il centro del metodo e della modalità di approccio necessari per entrare in contatto con l'abbondanza infinita almeno questo insieme all'affermazione precedentemente citata la mia mente è un centro di operazione divina eccetera ha costituito l'unico mezzo apparente per attirare a me i 20.000 dollari il mio sforzo costante per entrare nello spirito di queste affermazioni e di attirare a me questa somma necessaria durò circa sei settimane al termine delle quali avevo nel mio conto in banca la somma richiesta di 20.000 dollari potrei trasformare questo in una lunga storia fornendo tutti i dettagli ma i fatti già narrati vi daranno un'idea precisa sulla condizione magnetica della mia mente mentre i 20.000 dollari stavano cercando il modo per arrivare da me capitolo 11 come mettere in pratica il potere della parola in ogni vostra parola c'è il seme della potenza che si espande e si proietta nella direzione indicata dalle vostre parole e infine si sviluppa in espressione fisica ad esempio desiderate stabilire la gioia nella vostra coscienza dovete solo ripetere la parola gioia segretamente costantemente e con enfasi il seme della gioia inizierà ad espandersi e a proiettarsi fino a quando tutto il vostro essere sarà riempito di gioia questa non è una semplice fantasia ma una verità quando sentirete questo potere dimostrerete ogni giorno che questi fatti non sono stati fabbricati per adattarsi ad una teoria ma la teoria è stata costruita da una scrupolosa osservazione dei fatti tutti sanno che la gioia arriva da dentro un altro può darvi motivo di gioia ma nessuno può essere gioioso per voi la gioia è uno stato di consapevolezza e la consapevolezza è puramente mentale dice Troward le facoltà mentali lavorano sempre sotto qualcosa che le stimola e questo stimolo può arrivare o da fuori attraverso i sensi esterni o da dentro dalla consapevolezza di qualcosa non percettibile sul piano fisico il riconoscimento di questa fonte interiore di stimoli vi consente di portare nella vostra consapevolezza qualsiasi stato voi desideriate quando una cosa vi appare normale è sicuramente vostra attraverso la legge della crescita e dell'attrazione inoltre come è vostra la conoscenza dopo aver avuto l'uso consapevole delle figure questo metodo di ripetere la parola rende la parola in tutti i suoi limitati significati vostra perché le parole sono la materializzazione dei pensieri e il pensiero è creativo né buono né cattivo semplicemente creativo questo è il motivo per cui la fede costruisce e la paura distrugge dovete solo credere e tutte le cose saranno possibili per voi è la fede che vi dà il dominio su ogni circostanza o condizione avversa è la vostra parola di fede che vi rende liberi non la fede in una cosa o atto specifico ma la semplice fede nel vostro sé migliore in tutti i modi è grazie a questa potenza creativa sempre presente nel cuore della parola che rende la salute la tranquillità e la vostra condizione finanziaria una riproduzione del vostro pensiero più abituale cercate di credere e comprendere questo e vi ritroverete padroni di ogni circostanza o condizione avversa un principe del potere capitolo 12 come aumentare la fede ma vi chiederete come posso parlare in nome della fede quando fede ne ho poca o non ne ho per niente ogni essere vivente ha fede in qualcosa o qualcuno è la qualità dell'energia creativa nel pensiero positivo della fede che le dà vitalità non la forma che assume anche la paura intensa è viva con la fede temete il vaiolo perché credete sia possibile contrarlo temete la povertà e la solitudine perché le credete possibili per voi è la vostra tendenza di pensiero abituale che riappare nella vostra mente nel vostro corpo e nei vostri affari non il pensiero occasionale rivolto a qualche argomento o desiderio specifico è la fede che capisce che ogni creazione ha avuto origine nel grembo del pensiero parole che vi danno il dominio su tutte le cose incluso il vostro sé minore e questa sensazione o fede aumenta e si intensifica osservando ciò che fa questa osservazione è l'osservazione del vostro stato di consapevolezza quando l'avete fatto non quando speravate di poterlo fare ma avevate paura che fosse troppo bello per essere vero come vi siete sentiti quella volta in cui dovevate semplicemente migliorare il vostro stato d'animo e lo avete fatto o quando dovevate avere una certa cosa e l'avete ottenuta vivete queste esperienze ripetutamente mentalmente finché vi sentite davvero in contatto con il sé che conosce e agisce e il meglio che c'è sarà vostro capitolo 13 la ricompensa se aumentiamo la nostra fede poiché avete espanso la vostra fede nella fede e nelle leggi dell'universo che non conoscono alcun fallimento la vostra fede nel meglio di voi stessi il principio della vita in voi vi ha portato alla consapevolezza che non siete una vittima dell'universo ma una parte di esso di conseguenza è dentro di voi ciò che è in grado di stabilire un contatto consapevole con il principio universale del diritto e del potere e vi consente di esortare tutte le eccezionali leggi della natura sia visibili che invisibili a servire la vostra particolare richiesta o desiderio e quindi vi ritroverete padroni e non schiavi di tutte le situazioni troward ci dice che questa padronanza deve essere compiuta dalla conoscenza e l'unica conoscenza che permetterà questo scopo in tutta la sua immensità senza misura è la conoscenza dell'elemento personale nello spirito universale e la sua reciprocità con la nostra personalità in altre parole le parole che pensate la personalità che sentite di essere sono tutte riproduzioni in miniatura o Dio specializzato o spirito universale tutte le vostre parole e pensieri erano parole forme di Dio prima di essere vostre le parole che usate sono gli strumenti i canali attraverso cui l'energia creativa prende forma naturalmente questo sensibile potere creativo può solo riprodurre nel rispetto dello strumento attraverso il quale passa tutte le delusioni e i fallimenti sono il risultato del tentativo di pensare una cosa e di produrne un'altra questo è altrettanto impossibile quanto lo sarebbe usare un ventilatore elettrico per l'illuminazione o per l'acqua discorrere attraverso un tubo curvato in linea retta l'acqua deve assumere la forma del tubo in cui scorre ancora più precisamente questa sensibile sostanza invisibile e fluida deve riprodurre all'esterno la forma del pensiero parola attraverso cui passa questa è la legge della sua natura pertanto ne consegue logicamente come un uomo pensa tale egli è per cui quando il vostro pensiero o la vostra forma di parola è in corrispondenza con l'eterno e costruttivo movimento in avanti della legge universale allora la vostra mente è lo specchio in cui il potere e l'intelligenza infinita dell'universo si vede riprodotto e la vostra vita individuale diventa una vita di armonia capitolo 14 come ottenere risposte dalla natura si deve costantemente ricordare che esiste un'intelligenza e un potere in tutta la natura e lo spazio che è sempre creativa e infinitamente sensibile e reattiva la reattività della sua natura è duplice è creativa e favorevole a suggerimento quando la comprensione umana afferra questo fatto molto importante si rende conto della semplicità della legge della vita tutto ciò che è necessario è comprendere che la vostra mente è un centro di operazione divina e di conseguenza contiene in sé ciò che accetta suggerimenti e aspettatevi che tutta la vita risponda alla vostra chiamata e troverete suggerimenti che si occuperanno di realizzare il vostro desiderio non solo dai vostri simili ma anche dai fiori l'erba gli alberi e le rocce che vi consentiranno di realizzare il desiderio del vostro cuore se agite con fiducia su questo piano fisico la fede senza opere è morta ma la fede con le opere vi rende completamente liberi capitolo 15 la fede con le opere che cosa ha realizzato si dice di Tyson il grande milionario australiano che il suggerimento di far fiorire la terra del deserto dell'Australia come un fiore di campo gli è venuto da una modesta viola australiana mentre lavorava come coltivatore nel bascia australiano per poco più di trescellini al giorno era solito trovare queste piccole amabili violette che crescevano in alcune parti dei boschi e qualcosa nel fiore toccò qualcosa affine a se stesso nella mente di Tyson e di notte si sedeva sul bordo della sua branda e si chiedeva come alla vita dei fiori delle verdure poteva essere data l'opportunità di esprimersi nella terra deserta dell'Australia senza dubbio si rese conto che ci sarebbe voluto molto tempo per risparmiare abbastanza denaro per instaurare dei canali di irrigazione nelle terre del deserto ma il suo pensiero e le sue sensazioni erano certi che questo potesse essere realizzato e se poteva essere fatto lui avrebbe potuto farlo se c'era un potere dentro di sé che era in grado di catturare l'idea allora doveva esserci un potere reattivo all'interno dell'idea stessa che poteva trasformarsi in una pratica manifestazione fisica con determinazione mise da parte tutte le domande sui modi e sui mezzi specifici che sarebbero stati impiegati per trasformare il suo desiderio in manifestazione fisica e semplicemente tenne il suo pensiero centrato sull'idea di costruire dei ricinti e vedere fiori ed erba dove non esistevano poiché la capacità di reazione del potere creativo riproduttivo non si limita a nessuna condizione mentale locale la sua meditazione abituale e la sua immagine mentale resero le sue linee liberi di vagare nell'infinità per attirare a loro altre linee di natura affine pertanto non era necessario che Tyson aspettasse per vedere soddisfatte le sue linee e i suoi desideri finché non avesse risparmiato dai suoi trescellini al giorno abbastanza denaro per irrigare la terra poiché le sue idee trovarono altre idee nel mondo finanziario che erano sintonizzate nella compassione con se stesse e le porte della finanza si aprirono rapidamente tutte le istituzioni di beneficenza sono mantenute secondo il principio della reattività della vita se ciò non fosse vero a nessuno interesserebbe dare semplicemente perché qualcun altro ha bisogno la legge della domanda e dell'offerta causa ed effetto non può mai essere infranta le idee attraggono a se stesse idee affini a volte provengono da un fiore da un libro o dall'invisibile siete seduti o camminate intenti su un'idea non del tutto completa riguardo ai modi o ai mezzi di realizzazione ed ecco che arriva un'altra idea da cui nessuno può dire da dove e trova una sistemazione amichevole con la vostra idea un'idea che attira un'altra e così via fino a quando i vostri desideri non sono fatti fisici potreste sentire la necessità di un miglioramento delle vostre finanze e chiedervi come questo aumento possa essere realizzato quando sembra improvvisamente provenire dall'interno dell'idea che ogni cosa ha avuto origine nel pensiero persino i soldi e i vostri pensieri cambiano il loro corso dovete solo mantenere la dichiarazione o l'affermazione che il meglio e tutto ciò che c'è è vostro dato che siete in grado di catturare idee dall'infinito attraverso lo strumento del vostro intuito lasciate che la vostra mente riposi su quel pensiero sapendo benissimo che questo stesso pensiero risponderà a se stesso la vostra inibizione riguardo al pensiero del dubbio e al sentimento di ansia consente alle idee rassicuranti di affermarsi e attrarre a se stesse idee io posso e io voglio che gradualmente si trasformano in forma fisica del desiderio in mente nell'uso consapevole del potere universale per riprodurre i vostri desideri in forma fisica tre fatti dovrebbero essere tenuti a mente primo tutto lo spazio è riempito da un potere creativo secondo questo potere creativo è favorevole al suggerimento terzo può funzionare solo con metodi deduttivi come ci dice Troward quest'ultimo è un punto estremamente importante poiché implica che l'azione del potere creativo sempre presente non è in alcun modo limitato dal precedente funziona secondo l'essenza dello spirito del principio in altre parole questo potere universale prende la sua direzione creativa dalla parola che gli date quando l'uomo realizza questa grande verità con quale indole viene investito questo sensibile potere riproduttivo questa diventa la più importante di tutte le sue considerazioni è la legge invariata di questo principio di vita creativa che come un uomo pensa nel suo cuore così è anche lui se vi rendete conto della verità che l'unico potere creativo per voi può essere solo quello che sentite e pensate che esso sia è disposto e in grado di soddisfare le vostre esigenze Troward dice se pensate che il vostro pensiero sia potente allora il vostro pensiero è potente come un uomo pensa nel suo cuore così egli è è la legge della vita e il potere creativo non può più cambiare questa legge di quanto uno specchio normale possa rispecchiarvi un'immagine diversa dall'oggetto che tenete davanti adesso come pensi così sei non significa cosa dice alle persone e ciò che pensi o cosa si vorrebbe che il mondo credesse voi pensiate significa i vostri pensieri più intimi quel luogo dove nessuno tranne voi conosce nessuno può conoscere il padre se non il figlio e nessuno può conoscere il figlio tranne il padre solo lo spirito riproduttivo creativo della vita sa cosa pensate finché i vostri pensieri non diventano fatti fisici e si manifestano nel vostro corpo cervello o nei vostri affari poi tutte le persone con cui venite in contatto possono sapere perché il padre l'energia creativa intelligente che ascolta in segreto ascolta i vostri pensieri più segreti vi ricompensa apertamente e riproduce i vostri pensieri in forma fisica come pensi di sapere e ciò che diventi dovrebbe essere tenuto costantemente nel retro della vostra mente questo significa guardare e pregare incessantemente e quando non vi sentite abbastanza soddisfatti di pregare fisicamente capitolo 16 suggerimenti su come pregare o chiedere la convinzione di aver già ottenuto pensiero scientifico pensiero positivo suggerimenti per l'applicazione pratica cercate attraverso un pensiero attento positivo entusiasta sebbene non faticoso di realizzare che l'indescrivibile invisibile sostanza della vita riempe tutto lo spazio che la sua natura è sostanza intelligente plastica soggettiva alle 5 del mattino è il momento migliore per iniziare questo tipo di meditazione se vi ritirate presto ogni notte per un mese prima di addormentarvi imprimete fermamente sulla vostra mente soggettiva l'affermazione mio padre è il sovrano di tutto il mondo ed esprime il suo potere direttivo attraverso me scoprirete che la sostanza della vita prende forma negli schemi dei vostri pensieri non accettate il suggerimento sopra semplicemente perché vi è stato dato pensateci attentamente fino a quando l'impressione non si crea in modo comprensibile nella vostra mente subconscia alzatevi ogni mattina come suggerito prima alle 5 sedetevi in una stanza tranquilla su una sedia con la schiena dritta e pensate all'affermazione della sera precedente e vi accorgerete e sarete in grado di mettere in pratica il vostro nobile potere con la realizzazione in una certa misura almeno che la vostra mente è veramente un centro attraverso il quale tutta l'energia e il potere creativo stanno là prendendo forma preghiera scientifica il principio alla base della preghiera scientifica nella preghiera per un cambiamento di condizione fisica mentale o finanziaria per voi stessi o per un'altra persona ricordatevi che la necessità fondamentale per la risposta alla preghiera è la comprensione della dichiarazione scientifica chiedi credendo di aver già ricevuto e riceverai questo non è così difficile come appare in apparenza una volta che vi renderete conto che ogni cosa ha la sua origine nella mente e che ciò che cercate esternamente già possedete nessuno può pensare a un pensiero nel futuro il vostro pensiero di una cosa costituisce la sua origine pertanto la forma di pensiero della cosa è già vostra non appena la pensate il vostro costante riconoscimento di questa possessione di pensiero fa sì che il pensiero si concentri si condensi si proietti e assuma una forma fisica diventare ricchi attraverso la creazione il riconoscimento o la concezione di nuove forze di ricchezza è la più alta aspirazione che potete portare nel vostro cuore poiché assume e implica il perseguimento di tutti gli scopi nobili elementi da ricordare sulla preghiera per voi stessi o per un'altra persona ricordatevi che ciò che chiamate trattamento o preghiera non è in alcun senso ipnotismo non dovrebbe mai essere un vostro compito prendere possesso della mente di un'altra persona ricordatevi che non dovrebbe mai essere vostra intenzione far credere a voi stessi ciò che sapete essere falso state semplicemente pensando a Dio o alla prima causa con la comprensione che se una cosa è vera a tutti c'è un modo in cui è vera in tutto l'universo ricordatevi che il potere del pensiero funziona secondo principi assolutamente scientifici questi principi sono espressi nella lingua della dichiarazione come un uomo pensa nel suo cuore così egli è questa affermazione contiene un mondo di saggezza ma è necessario un costante riconoscimento e un'attenta applicazione dell'affermazione stessa da parte della persona per renderla pratica ricordatevi che i principi coinvolti nell'essere come pensiamo nel nostro cuore sono chiariti e rivelati dalla legge quello che avrai seminato quello che raccoglierai ricordatevi che la vostra libertà di scegliere esattamente ciò che penserete il possesso del pensiero che affermerete e rivendicherete costituirà il dono di Dio per voi questo mostra come la prima causa abbia dotato ogni uomo del potere e della capacità di portare nel suo ambiente personale qualunque cosa egli scelga causa ed effetto in riferimento a come ottenere se si pianta una ghianda si ottiene una quercia se si semina un chicco di mais si raccoglie uno stelo e molti chicchi di mais si ottiene sempre la manifestazione di ciò che si afferma e si reclama consciamente o inconsciamente che si dichiara o ci si aspetta abitualmente o in altre parole quello che avrai seminato pertanto seminate i semi di io sono io devo io posso io farò comprendete questo perché se tu sei tu devi quindi perché tu devi tu puoi quindi perché tu puoi tu fai la manifestazione di questa verità anche in piccola parte vi dà la comprensione indiscutibile che il dominio è il vostro diritto privilegiato voi siete un erede della prima causa dotato di tutto il potere che egli ha dio vi ha dato tutto tutto è vostro e sapete che tutto ciò che dovete fare è allungare la mano mentale e prenderlo questa formula può servire da modello per modellare la vostra preghiera o affermazione in dio a beneficio di un'altra persona o per voi stessi se per un'altra persona si pronuncia il nome di battesimo della persona che si desidera aiutare quindi si elimina completamente la sua personalità dalla propria coscienza intensificate il vostro pensiero meditando sul fatto che ciò che serve in voi che trova la via che è la verità ed è la vita voi state affermando questo fatto credendo che dal momento che lo state pensando è già vostro avendo elevato i vostri sentimenti all'idea centrale di questa meditazione esaminate la vostra coscienza per vedere se c'è qualcosa che è diverso da dio se c'è qualche sentimento di paura preoccupazione malizia invidia odio o gelosia ritornate alla vostra meditazione per purificare il vostro pensiero attraverso l'affermazione che l'amore e la purezza di dio riempono tutto lo spazio incluso il vostro cuore e la vostra anima riconciliate il vostro pensiero con l'amore di dio ricordando sempre che voi siete fatti a immagine e somiglianza dell'amore tenete a mente questo pensiero purificante fino a quando sentite di aver liberato la vostra coscienza interamente da tutti i pensieri e sentimenti diversi dall'amore e dall'unità con tutta l'umanità quindi se le negazioni non vi disturbano negate tutto ciò che è diverso dalla manifestazione desiderata realizzato questo quasi sovrapponete la vostra negazione con il pensiero affermativo che siete fatti a immagine e somiglianza di dio e avete già realizzato il vostro desiderio nella sua prima originale forma pensiero o spirituale chiusura della preghiera la preghiera come metodo di pensiero è un uso deliberato della legge che vi dà il potere del dominio su tutto ciò che tende in qualche modo a ostacolare la vostra perfetta libertà vi è stata data la vita che può essere goduta di più e più e in modo più completo con la costante consapevolezza di questa verità vi proclamerete un principe di potere riconoscete accettate e usate questo potere come figlio di un re e quindi il dominio è il vostro diritto di nascita quindi quando sentite la luce di questa grande verità inondare la vostra coscienza aprite le porte della vostra anima in lodi sincere per averlo capito il creatore e la sua creazione sono tutt'uno inoltre il creatore crea continuamente attraverso la sua creazione chiudete il vostro procedimento con la felice certezza che la preghiera che si realizza non è una forma di supplica ma una costante abitudine che afferma che il creatore di tutta la creazione opera specificatamente attraverso di voi quindi il lavoro deve essere perfettamente eseguito la vostra mente è un centro di operazione divina suggerimenti per l'applicazione e la pratica ogni 5 minuti dedicati alla lettura e allo studio delle teorie della scienza della mente dedicate 15 minuti all'utilizzo e all'applicazione delle conoscenze acquisite 1. trascorrete un minuto ogni 24 ore a pensare coscienziosamente alle specifiche che devono essere osservate per ricevere una risposta alle vostre preghiere 2. praticate il costante riconoscimento del desiderabile possesso del pensiero per due periodi di 15 minuti ogni giorno non solo calcolate il tempo impiegato durante ogni periodo per vedere per quanto tempo riuscite a mantenere una determinata concezione della vostra visione mentale ma tenete anche un record scritto della nitidezza con cui si verifica la vostra immagine mentale ricordate che i vostri sensi mentali sono altrettanto vari e addestrabili come quelli fisici 3. trascorrete 5 minuti ogni giorno tra mezzogiorno e luna facendo una ricerca mentale di nuove fonti di ricchezza capitolo 17 cose da ricordare ricordate che il più grande scienziato della mente che il mondo abbia mai conosciuto Gesù Cristo l'uomo ha detto che tutto è possibile per voi anche le cose che faccio io puoi farle tu ha detto la verità Gesù non ha affermato di essere più divino di voi dichiarò l'intera razza umana figli di Dio per nascita lui non era un'eccezione a questa regola il potere che possedeva era sviluppato attraverso il suo sforzo personale ha detto che anche voi potreste fare lo stesso se solo credeste in voi stessi una grande idea non ha valore se non è accompagnata da un'azione fisica Dio dà l'idea l'uomo la risolve sul piano fisico tutto ciò che vale davvero è l'appagamento solo l'autocontrollo può produrlo l'anima e il corpo sono tutt'uno l'appagamento della mente è l'appagamento dell'anima e l'appagamento dell'anima significa appagamento del corpo se desiderate salute osservate i vostri pensieri non solo del vostro essere fisico ma dei vostri pensieri su tutto e tutti con la vostra volontà li manterrete in linea con il vostro desiderio e agirete esternamente secondo i vostri pensieri e presto realizzerete che vi è stato dato tutto il potere sia sui pensieri che sulle condizioni voi credete in dio credete in voi stessi come lo strumento fisico attraverso il quale dio opera il dominio assoluto è vostro quando avete sufficiente padronanza personale per conquistare la tendenza negativa di pensieri e azioni chiedetevi ogni giorno qual è lo scopo del potere che mi ha messo qui come posso lavorare con lo scopo della vita e della libertà in me appena avrete risolto queste domande cercate a ogni ora di soddisfarle seguite le vostre leggi se avete la tendenza a esagerare con qualsiasi cosa mangiare bere o incolpare le circostanze per la vostra malasorte superate quella tendenza con la convinzione interiore che ogni potere è vostro esternamente mangiate di meno bevete di meno date meno colpa alle circostanze e il meglio che esiste crescerà gradualmente nel luogo in cui il peggio sembra essere ricordate sempre che tutto è vostro pronto da usare come lo volete potete se lo volete se lo volete potete dio padre vi benedice con tutto ciò che lui ha da dare fatene un buon uso divino il motivo di un maggiore successo quando eravate agli inizi dei vostri studi e dimostrazioni sulla scienza della mente è che la vostra gioia e il vostro entusiasmo per la semplice scoperta del potere interiore era maggiore di quanto siete stati in grado di capire in seguito con una maggiore comprensione mettete sempre più gioia ed entusiasmo e i risultati corrisponderanno avete ascoltato il potere invisibile della visualizzazione scopri come raggiungere i risultati che credevi impossibili di Genevieve Berend 1921 traduzione a cura di David De Angelis tutti i diritti di traduzione sono riservati narrato da Vita Wolf grazie a tutti